Però bisogna ammettere che tra le mille voci che ci sono oggi, la decisione di una scelta non è molto semplice, però io le direi e direi ai miei figli e ai miei amici di scegliere in questo modo, con il voto del 25 maggio uno sceglie per un'Europa ma anche per un'Italia, per un'Europa che deve essere cambiata o per un'Italia che può essere cambiata e sceglierà innanzitutto se premiare e dare fiducia a chi in questi mesi con responsabilità, mettendoci la faccia, il coraggio dell'azione concreta, ha deciso che anziché parlare finalmente questo paese può cambiare, anche facendo lotte dure, anche facendo scontri all'interno del centro destra e all'interno del centro sinistra, oppure se far vincere invece la protesta, l'estremismo, la demagogia, la pancia, anche ha ragione, queste saranno le due scelte, quindi uno deve scegliere non tappandosi il naso questa volta, ma con serietà e responsabilità se ha davanti, in questi due mesi è stata ridata un po' di speranza a questo paese, ce la stiamo mettendo tutta per cambiarlo? Non ce la facciamo più delle contrapposizioni esasperate, della politica che continua a alzare la voce, se vince la protesta, la protesta non ha un futuro, basta pensare a quello che hanno fatto a Parma, i Grillini sono andati a governare e poi hanno dovuto governare, e quando governi? Hai le prese con i problemi e poi l'unica possibilità che ha avuto Grillo è stata quella di scomunicare Pizzarotti, quindi queste sono le cose che noi stiamo cercando di fare, giusto o sbagliate che siano, ma le stiamo cercando di fare, Renzi, io, Angelino Alfano, il nuovo centrodestra, e allora se vuole ci dia questa possibilità di andare avanti, ce la dia, semplicemente, noi non abbiamo niente come il nuovo centrodestra, abbiamo soldi, noi abbiamo televisioni, abbiamo solo la nostra forza e le garantisco che questo in Italia è sempre contatto, la forza e il coraggio della gente.